Ciao a tutti ragazzi, qua FedeTutorial e son tornato con questo nuovo video dove oggi vi porto un tutorial completamente aggiornato su come registrare il vostro iPhone, iPad o iPod Touch senza il bisogno di un computer o di un jailbreak. Prima cosa che devo dirvi, io in questo caso sto utilizzando un iPhone jailbroken ma è solamente per registrare tutto quello che farò ora funzionerà anche su un dispositivo senza il jailbreak. Un'altra cosa poi davvero molto importante è che questo procedimento sarà compatibile solamente con dispositivi a 64 bit, ovvero questi che vedete in questo momento, riguardo l'iPhone ad esempio partendo dal 5S in poi. Vi prego non lasciatemi dei commenti come per esempio posso farlo se ho un iPhone 5? La risposta è no, potete farlo solamente se avete uno di questi dispositivi che vedete in questo momento. Cercherò di portare una soluzione il prima possibile per quanto riguarda i dispositivi a 32 bit, purtroppo per ora funziona solamente con i 64 bit. Andremo ad utilizzare un'applicazione che vi avevo fatto vedere già tempo fa chiamata Airshow, molti mi avete contattato in questi giorni dicendomi che avevate dei problemi nell'utilizzare l'app e questo perché il certificato era stato rimosso. Ora è stato completamente aggiornato, c'è una versione totalmente nuova, perfettamente funzionante di Airshow, purtroppo però come ho già detto solo per i dispositivi a 64 bit. Tutto quello che dovrete fare sarà cliccare nel link che vi metterò qui sotto nella descrizione che vi porterà in questa pagina di iEmulators.com. Una volta arrivati qui basterà scorrere verso il basso e cliccare su questa icona di Airshow. Ora ci comparirà quest'altra finestra, clicchiamo su Install e poi clicchiamo di nuovo su Install Airshow. Attendiamo qualche secondo e dopo di che uscirà fuori questo pop-up. Ora clicchiamo su Installa, torniamo nella nostra home screen e qui troveremo l'applicazione Airshow che si sta installando nel primo posto disponibile all'interno della home screen. Come vedete ragazzi in questo momento si è installata perfettamente, in futuro c'è la possibilità che vi dia questo errore che vedete in questo momento, ovvero impossibile installare l'app. E questo è normalissimo perché come ho già detto i certificati di Airshow vengono rimossi da Apple e poi successivamente aggiornati dagli sviluppatori. Quindi è normale che dopo un po' di tempo l'installazione dia dei problemi. Se vi dà questo errore quindi dovrete semplicemente attendere che gli sviluppatori rilascino dei certificati aggiornati e non potete fare nient'altro. Quindi per ora funziona benissimo, in futuro molto probabilmente non funzionerà più. Nel caso poi cercherò di portarvi un tutorial aggiornato il prima possibile. Una volta installata comunque andiamo ad aprirla, come al solito ci darà questo messaggio, per risolverlo andiamo nelle nostre impostazioni, clicchiamo su generali, scorriamo in basso fino a trovare profilo o gestione dispositivo, dipende dalla versione del vostro iOS. Clicchiamo poi sul profilo della nostra applicazione, clicchiamo su autorizza e poi di nuovo su autorizza. Fatto questo torniamo nella nostra applicazione e la possiamo lanciare senza nessun problema. Per quanto riguarda le notifiche fate come volete, non c'è bisogno di attivarle per forza. Ora clicchiamo su agree e qui vi ridice praticamente quello che vi ho detto io, ovvero che il certificato viene revocato molto spesso. Clicchiamo su ok ed ora saremo pronti per registrare. Basterà cliccare appunto su registra. Scriviamo un nome per la nostra registrazione, ad esempio vado a scrivere prova. Scegliamo un orientamento, quindi se il nostro dispositivo starà in portrait o in landscape mode. Ad esempio vado a mettere ritratto. Come risoluzione scelgo 1080p, ovvero il massimo. Dopodiché clicchiamo su prossimo passo. Ora qui ci dirà di abilitare Airplay, per cui apriamo il nostro control center, selezioniamo Airplay. Ci comparirà come vedete il dispositivo Airshow iPhone di Federico, in questo caso clicchiamoci e clicchiamo su duplicazione. Ora clicchiamo in alto a destra su fine. Come vedete la registrazione è partita perfettamente. Ci sarà questo banner in rosso in alto e tutto quello che starò facendo in questo momento sarà registrato dal programma. Come vedete non c'è nessun tipo di lag, in questo momento io addirittura sto registrando con due applicazioni, quella con cui sto facendo questo video e anche Airshow. Per terminare la registrazione semplicemente clicchiamo sul banner in rosso oppure riapriamo l'applicazione Airshow e clicchiamo su stop. Le nostre registrazioni si troveranno in alto a destra su questo simbolo ed ecco qui il mio file prova.mp4. Cliccandoci sopra possiamo lanciarlo oppure addirittura salvarlo nel rullino fotografico. Molto molto comodo nel caso vogliate trasferirlo sul pc per fare un successivo editing. Andiamo per esempio a lanciarlo, come vedete funziona perfettamente, ci sarà anche l'audio del microfono che registrerà automaticamente. In questo caso voi non la sentite perché ho il volume come vedete al minimo ma il video funziona tutto benissimo. Anche l'audio si sente perfettamente, come ho già detto voi non la sentite per via del volume. Possiamo anche trasferirlo nel rullino fotografico semplicemente cliccandoci sopra e cliccando su salva in rullino fotografico. Ci darà questo pop up di salvato con successo ed ora potremo anche trasferirlo nel nostro pc per fare un successivo editing. Come avete visto quindi l'applicazione funziona davvero perfettamente, è stata da poco aggiornata ed è molto più stabile di prima. Però purtroppo è disponibile solamente per i dispositivi a 64 bit. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale. Passate nella mia pagina facebook e nel mio canale telegram, tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione. Commentate se avete qualsiasi tipo di problema o per qualsiasi cosa che cercherò di rispondervi il prima possibile. Ed infine come sempre la cosa più importante di tutte, condividete questo video dovunque con i vostri amici per fargli scoprire questo nuovo aggiornamento di Airshow ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere. E da FedeTutorial è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao raga! Ciao!